Oh, forse no. Aspetta, ti aiuto io, Bam! Fatemi scendere! Sta andando tutto storto! Questa è una battastrofe! Niente panico, possiamo prendere il controllo. Tutto noi possiamo fare Anche da soli Ogni sfida da affrontare Noi da soli Farlo da soli si può Tieni il controllo però Qualsiasi cosa ti serve Sai bene che puoi sempre chiedere a noi Per qualsiasi operazione Chiedi a noi Risolviamo in un baleno Presto noi Sembra difficile ma Vedrai si risolverà Sai che ci pensiamo noi Prendere il controllo? Qui è peggio che mai! Che cosa facciamo se Batman chiamava? Batcomputer, rispondi! Batcomputer non c'è Vuoi lasciare un messaggio? Invece Grazie 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 a tutti.